Ventesi mercato coperto. Il comune di Scalea ha messo all'asta la struttura dell'ex mercato di via Fiumelao per poco più di un milione di euro. L'edificio ormai dismesso e fatiscente non viene più utilizzato da anni. Con una delibera di consiglio comunale del 15 agosto 2011, l'amministrazione Basile ha inserito nell'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni anche il fabbricato di via Fiumelao. Qualche mese fa il servizio urbanistica dell'ufficio tecnico comunale ha predisposto una perizia di stima per accertare il valore della struttura. 568 mila euro per la superficie commerciale e 499 mila euro per la parte circostante, dove attualmente si svolge il mercatino della frutta. In città è già polemica. Per molti il valore dell'immobile è legato alla storia del paese e andrebbe ristrutturato e valorizzato e non ceduto ai privati. Altri invece sperano che siano gli amministratori a stabilire, prima che l'ex mercato venga ceduto, quali attività potranno essere realizzate all'interno e che queste portino beneficio, in termini di fruizione della città, a turisti e cittadini. Ma il Comune sta vivendo una profonda crisi finanziaria. L'ente ha circa 34 milioni di euro di debiti e ha bisogno di far cassa. È forse il momento più opportuno per la vendita dei beni patrimoniali in disuso. L'obiettivo, spiegano da via Plinio il Vecchio, non è solo quello di incrementare i guadagni. In questo modo si favorisce anche lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico della comunità. Un investimento che l'amministrazione basile al momento non può permettersi, ma che con criterio e scrupolo vuole affidare ad altri.